eccoci qua buonasera buonasera a tutti abbiamo una diretta prima del corso che faremo stasera a bologna ieri eravamo a parma lunedì eravamo a reggio emilia e stasera siamo a bologna le nostre tre attuali sedi in cui teniamo i corsi venite venite signori questa in questa diretta parleremo su come smettere di prendere decisioni di cui ci pentiremo sarebbe interessante iniziare a smettere di prendere decisioni di cui ci pentiremo è chiaro che non possiamo avere la sfera di cristallo ma possiamo fare un lavoro che diminuisce di molto ok questa percentuale di decisioni che poi alla fine si rivelano controproducenti e la cosa che ci deve far riflettere che siamo proprio noi a prenderla perché perché spesso noi diventiamo purtroppo i nostri peggiori nemici già vediamo se qualcuno si connette e poi iniziamo tra l'altro c'è una bellissima giornata qui a bologna oggi siamo arrivati in grande anticipo perché così ci rilassiamo e alle 8 stasera faremo un corso straordinario eccezionale manterremo i nostri standard perché per fortuna anzi non è tanto per fortuna è proprio per preparazione quindi per una serie di strategie e di sinergie che abbiamo messo su ci ha permesso di avere il 99 per cento di feedback positivi quindi il 75 per cento e tra buone e tra ottimo e straordinario il feedback delle persone che partecipano ai nostri corsi sto parlando di centinaia di feedback perché da gennaio da novembre 2016 ad oggi abbiamo coinvolto 1.400 persone iscritte ai nostri corsi in modalità gratuita 1.400 bene di queste 1.400 diciamo che un migliaio sono venute circa sono venute hanno partecipato e di questo migliaio il 75 80 per cento ha lasciato un feedback scritto tra ottimo e straordinario e un'altra piccola percentuale quella che resta ha lasciato feedback di buono e lo 0,01 per cento ha lasciato un feedback negativo quindi tra su mille praticamente quindi questo non è dovuto alla fortuna ma è dovuto alla preparazione è dovuto a un impegno costante continuo ed è per questo che ci siamo arrivati anche a bologna bene quindi come possiamo smettere di prendere decisioni di di cui ci potremmo pentire anzi di cui spesso ci pentiamo perché perché vi dico questo perché ormai parlando con tante persone facendo tanti corsi ti rendi conto che ci sono alcuni meccanismi della nostra mente che ci portano ogni tanto purtroppo più di ogni tanto ad essere i nostri peggiori nemici piuttosto che essere i nostri migliori alleati ti faccio un esempio allora noi magari cresciamo siamo giovani abbiamo degli obiettivi ambiziosi giusto poi iniziamo a passare dal dalla scuola dal mondo scolastico arriviamo al mondo del lavoro e iniziamo a capire che le cose non sono proprio così semplici come ci aspettavamo quindi magari abbiamo avevamo degli obiettivi iniziamo a ridurli e quindi riduciamo poi passa un po di tempo e riduciamo ancora i nostri obiettivi passa ancora un po di tempo fino a che i nostri obiettivi ce li siamo dimenticati e ci accontentiamo insomma quindi iniziamo a diciamo a rinunciare a tutti quei sogni quelle quei desideri insomma per noi era una vita proprio che era impensabile da applicare perché succede questo perché vedi noi spesso vogliamo obiettivi che ci interessano tanto ma utilizziamo convenzioni e modi di ragionare e vecchi cioè che fino ad oggi non ci hanno fatto raggiungere quegli obiettivi e quindi qua c'è un paradosso perché tu vuoi obiettivi nuovi diversi più belli migliori più importanti ma facendo le cose che hai sempre fatto quindi come fai aspettarti cose diverse se continua a fare le stesse cose vedi questo qui questo modo di agire tante persone tanti di noi diciamo lo hanno vissuto quindi continuiamo a fare le stesse cose ci aspettiamo risultati diversi questa è la definizione di follia secondo albert einstein però è un paradosso perché noi vogliamo obiettivi nuovi però non siamo preparati a ottenere questi obiettivi quindi magari continuiamo a frequentare persone che non ottengono quegli obiettivi continuiamo ad avere un modo di ragionare di queste persone quindi della media delle persone che ottiene dei degli obiettivi tra virgolette normali che non sono quelli che vogliamo noi noi vogliamo obiettivi importanti giusto voi obiettivi normali e obiettivi normali non è non devi neanche fissarteli come obiettivi perché la normalità la vivi quindi se tu vuoi qualcosa che non hai mai raggiunto la prima cosa che devi fare ok è proprio iniziare a cambiare il modo che hai di pensare quindi inizia a guardare chi stai frequentando se le persone che stai frequentando hanno un modo di pensare un atteggiamento che non ti può aiutare che non ti influenza in modo positivo per cambiare per ottenere nuove competenze per iniziare a avere nuovi modi e nuove convinzioni per iniziare a fare nuove azioni ok per iniziare a sbagliare a capire come migliorare andare avanti creare una relazione col sacrificio con l'errore con la sofferenza perché se tu vuoi cambiare sarà facile sarà facile ricordati che noi come proprio la nostra mente non accetta volentieri il cambiamento noi abbiamo una mente che tende alla normalità tende a cercare delle conferme ok quindi se la nostra mente tende a cercare delle conferme e noi vogliamo cambiare la nostra mente ci crea degli ostacoli e quindi è questo che ci fa prendere delle decisioni delle quali potremmo pentirci perché magari ci porta a prendere decisioni emotive in ambiti del in progetti sul lungo periodo e quindi quando tu prendi una decisione emotiva magari a lavoro su un progetto che dovrebbe essere sul lungo periodo che ti andrà a influenzare la vita perché se tu scegli un lavoro a livello emotivo e quel lavoro dovrai farlo per dieci vent'anni capisci bene che è molto facile che tu commetta degli errori perché magari in quel momento ti sembra cosa giusta da fare ma non hai pensato al lungo termine ok quindi la prima cosa che tu devi fare è iniziare a smettere di prendere decisioni emotive in progetti che ti coinvolgeranno nel lungo periodo ok distingue queste cose questo comporta di iniziare a fare analisi iniziare a smettere di utilizzare solo la percezione che noi abbiamo della realtà ma di iniziare a utilizzare dei dati misurabili e oggettivi perché un altro errore della nostra mente si chiamano bias cognitivi è quello di andare a percezione prova ad andare a fare la spesa senza avere una lista vai a intuito perdi più tempo non compri tutte le robe che devi comprare tutte le cose e magari ti dimentichi qualcosa capito mentre se tu ti crei una lista tu sei sicuro o sei sicura che comprerai le cose giuste e ci metterai meno tempo e non dovrai metterti lì a pensare cosa hai preso cosa non hai preso eccetera eccetera vedi questa piccolezza questo piccolo esempio è per farti capire che come nelle piccole cose quotidiane ci può aiutare una piccola lista nei progetti a lungo periodo se tu non ti fissi degli obiettivi se tu non crei un modo di pensare più analitico più oggettivo più misurabile purtroppo e tu non potrai creare le solidi delle basi solide per ottenere degli obiettivi che ti possono fare la differenza a due tre cinque dieci anni capisci di quello che di cui sto parlando quindi è per questo che noi andiamo a lavorare nei nostri corsi di formazione molto sull'intelligenza emotiva molto su come controllare gli stati d'animo tra virgolette negativi ma non sono negativi sono quelli della sofferenza del disagio il disagio che ti crea il cambiamento il cambiamento ci crea disagio perché te l'ho detto la nostra mente tende a trovare conferme conferme delle nostre convinzioni ma se tu hai delle convinzioni che non ti portano ad avere gli obiettivi che vuoi e la mente va a ricercare le convinzioni e come fai a cambiare tu vivrai nel tuo passato quindi il tuo passato sarà il tuo futuro prova a guardare gli ultimi due o tre cinque anni che hai vissuto gli ultimi due o tre cinque anni guarda quegli obiettivi quali risultati hai raggiunto bene saranno quelli che raggiungerai al massimo nei prossimi due o tre cinque anni oppure saranno un po più scarsi perché le cose cambiano e non in meglio ti piace questo questa previsione bene se non ti piace sappi che i due o tre cinque anni passano comunque e quindi fra due o tre cinque anni potremmo trovarci qui a parlare delle stesse cose probabilmente io non farò più le dirette però magari tu sarai lì che cerchi un video per capire come cambiare inizia a fare un'analisi adesso perché perché noi agiamo in base a due cose o per ispirazione o per disperazione quindi non aspettare di perdere le opportunità che hai oggi ok perché perché ti dico questo perché noi quando è che capiamo quanto sono importanti le cose le relazioni le opportunità che abbiamo quando lo capiamo quando le stiamo per perdere oppure quando le abbiamo già perse quindi che cos'è che succede succede che la ma il 93 per cento delle persone in terza età hanno una cosa in comune hanno il rimpianto di non aver usato abbastanza quando erano più giovani quindi rinviare porta a quella strada lì a quell'obiettivo a quel risultato lì al rimpianto perché fare le stesse cose ed aspettarsi risultati diversi è pura follia banale sì fallo fallo perché il problema è proprio questo non è che se tu magari razionalmente conosci questa teoria o l'hai letta in un libro o hai visto un filmato come questo o qualsiasi cosa saperla oppure passare dal fatto che questa cosa è giusta me la devo ricordare e di questo modo di ragionare non va bene ti spiego il perché perché me lo devo ricordare non vuol dire anzi vuol dire che tu non lo applicherai e te lo dimostro cioè se tu sai una cosa non è assolutamente detto che tu la vada ad applicare nella tua realtà nella tua realtà di tutti i giorni nel tuo quotidiano perché tu quello che fai nel tuo quotidiano sono scelte e decisioni e abitudini che hai creato negli ultimi 5 10 15 20 anni non sono cose che hai creato ieri quindi andare a cambiare un'abitudine ci vogliono dei sei mesi un anno dei tre mesi e un anno ok perché ti dico questo quindi se tu vuoi iniziare a cambiare sai qual è il lavoro che devi fare allora ti spiego come facciamo noi noi facciamo 24 corsi in una zona due ogni al mese due ogni mese quindi 24 corsi in aula in un anno in più per le persone che hanno obiettivi importanti e 24 corsi aggiungiamo 24 sessioni individuali diventano 48 appuntamenti all'anno a questi incontri poi dopo devi aggiungere dei libri dei film perché tutto ci condiziona e dei modi di pensare delle tecniche delle strategie ok quindi tu dovrai iniziare a pensare quando ti svegli al mattino quando mangi dormi respiri quando ti muovi durante tutto il giorno a quello che devi fare per raggiungere il tuo obiettivo perché quando tutti svegli al mattino sai cosa pensi oggi cosa devo fare bravo questo sembra giusto ma non lo è tu devi pensare oggi cosa devo fare per raggiungere il mio obiettivo perché questo determina due cose primo che deve avere un obiettivo fisso stabilito proprio scritto con una data con una scadenza che ti entusiasmi ok di questo ne abbiamo già parlato secondo che tu sai stai seguendo una pianificazione una strategia se tu non fai questo se tu vivi alla giornata se tu vivi alla giornata come negli esempi che ti ho spiegato prima sarà come stare dentro una barchetta in mezzo alle balie in balie delle onde dell'oceano e non remare stare lì fermo mentre se tu scegli il porto scegli la direzione è la rotta allora inizierai a remare in quella direzione tu andrai a raggiungere quel porto andrà raggiungere quell'obiettivo e allora metterai in armonia le tre ar che sono la salute le relazioni e la sicurezza economica il business ok se tu non fai questo gli anni passano e queste tre cose non saranno mai in armonia perché è difficile metterle in armonia è difficile tutte quelle belle cose che senti che leggi in pratica dovrai metterle che senti e leggi in teoria dovrei metterle in pratica e questo è un lavoro importante quindi come diceva mohamed ali io odio ogni momento ogni minuto del mio allenamento ma pensavo soffri adesso e vivi il resto della tua vita da campione questo è il modo di ragionare che hanno le persone che ottengono risultati straordinari soffri adesso e ottieni e vivi il resto della tua vita da campione non devi andare a cambiare il mondo devi solo migliorare il tuo mondo ok poi dopo quando migliori il tuo potrai anche influenzare quello degli altri ma se tu non sei a posto con te stesso con te stessa non puoi neanche essere ad aiutare altre persone 24 corsi in aula 24 sessioni individuali libri film e palestra allenare la volontà quando fai un esercizio in palestra al posto che smettere quando appena inizi a sentire diciamo un po di stanchezza devi sfidarti e fare uno due ripetizioni in più questo farà bene sia il tuo corpo e ok sarai più allenato ma soprattutto andrà ad allenare la volontà che è quella cosa quel motore che ci spinge a fare la differenza proprio quando le cose diventano difficili perché sai cosa succede che la maggior parte di noi quando c'è la situazione di tranquillità tendiamo a sopravvalutarci sempre questa maggioranza di noi nei momenti di difficoltà tende a sottovalutarsi quindi se tu non inizia a cambiare questo schema mentale che ti porta a prendere decisioni quando sei sotto pressione quando sei sotto stress quando è il momento di fare la differenza tu resterai nella media delle persone otterrai i risultati normali da ottenere invece di ottenere i tuoi risultati i tuoi obiettivi quelli che hai scelto tu con una scadenza che ti entusiasmano che ti danno quella carica emotiva che ti permette di restare focalizzato nei momenti di difficoltà per fare questo serve anche sviluppare la tua intelligenza emotiva ma di questo ne ho parlato in un altro video e comunque lo approfondiremo perché negli altri corsi fra due settimane andremo proprio a parlare dell'intelligenza emotiva e dell'autostima perché sono fondamentali una cosa che devi assolutamente tenere in considerazione è quella di essere coerente con ciò che provi emotivamente ciò che pensi dice fai nel senso quando tu ti prometti una cosa la mantieni ti faccio un esempio a tutti noi a fine l'ultimo dell'anno ci piace fare i buoni propositi giusto già quindi il 31 12 io mi fisso dei buoni propositi dovrei vorrei fare una lista fumare smettere fumare andare in palestra al dieta insomma le solite cose togliermi le abitudini che non mi piacciono quello che vuoi che cosa succede con la lista il primo gennaio quindi poche ore dopo rispettiamo no ma la cosa più tragica non è questo e che noi non ci arrabbiamo cioè per noi è normale quindi per noi è normale fissarsi degli obiettivi e non raggiungerli bene allora ogni cosa che tu fai la alleni soprattutto se la fai in ripetizione quindi se per te il canone di normalità è questo e la tua mente va a cercare sempre delle conferme raggiungerai obiettivi che non hai mai raggiunto inizierai a sviluppare a creare un ecosistema di cambiamento un contesto di cambiamento che ti permetterà di ti permetterà di ottenere e di tirare fuori il tuo potenziale di ottenere risultati diversi no dobbiamo partire dalle piccole cose dobbiamo partire dalle cose semplici da lì quando iniziamo a metterle in pratica andiamo a lavorare su cose più complessi più complesse ma se non partiamo dalle semplici c'è poco da fare e allora la nostra mente va allenata come fosse un muscolo dobbiamo allenarci alla positività l'hai già sentito sì forse però non hai sentito che di media un uomo pronuncia o pensa 7 mila parole al giorno e una donna 20 mila quindi se queste parole hanno un significato spesso negativo tipo capitano tutte a me sono il solito stupido e non ci riesco mai gli altri ce la fanno io no e cosa penseranno gli altri insomma questo hai capito cosa voglio dire ti condiziona cioè prova a pensare che tu ogni secondo della tua giornata c'è una persona qui di fianco che ti dà addosso ti motiverà a dare il meglio ok allora quella persona la puoi controllare perché se tu c'è una vocina si chiama dialogo intrapersonale è uno degli argomenti di di questa sera e però la puoi anche controllare chiaro che se fino ad oggi ti sei dato addosso capisci bene che non è facile cambiarla però puoi farlo puoi farlo in tre mesi sei mesi un anno dipende da quanto è forte quando è radicata in te questa abitudine quindi trasformarla da capitano tutte a me oppure sono stanco non ce la faccio mollo oppure ecco paura blocco paura limite cambiamento disagio sofferenza basta non fa per me ricerco sempre la strada più comoda che cambiare questo atteggiamento questa abitudine che valore ha il valore di una vita perché quando sarai sotto pressione quando sarà il momento di far la differenza non penserai ai blocchi non penserai ai limiti non penserai al disagio non subirai queste emozioni ma farai azione massiccia farai quello che serve quello che è necessario per uscire da quella situazione e raggiungere i tuoi obiettivi perché soffrirai un anno o due ma poi le cose le metti a posto se no starai in barriere delle onde per il resto della tua vita perché questo schema mentale poi si ripete se non cambi lo schema mentale che hai quando sei sotto pressione tenderai sempre a mollare perché sotto pressione non sei abituato a tirare fuori il tuo potenziale ti torna quello che sto dicendo ok quindi il nostro modo di cambiare questo 24 corsi in un anno che sono la base e poi sono persone che ne fanno di più perché noi facciamo più di 24 corsi un anno ma la base è quella 24 corsi sei obiettivi importanti altre 24 sessioni individuali chiaramente deve entrare dentro le condizioni che io stabilisco per lavorare con le persone individualmente perché non lavoro con tutti capisci bene che questo non è possibile non è questione di soldi ma è proprio questione di trovarsi la prima condizione è che devi essere una persona che è disposta a mettere in discussione le proprie convinzioni perché sono quelle convinzioni che ti hanno portato oggi a voler cambiare ok quindi vuol dire che quelle convinzioni quelle azioni che fai oggi non vanno più bene per ottenere risultati che magari andavano bene fino a ieri ma da adesso non vanno più bene quindi fissare nuovi obiettivi mettersi in discussione e voler cambiare punto da qui iniziamo a lavorare ma se non c'è questa base no ciao come stai tutto bene e quindi bisogna andare avanti da questa in questa direzione perché non è importante tanto dove sei adesso ma la direzione che tu hai dove stai andando il punto è che tutti voi anzi la maggior parte di voi non sa dove sta andando perché non ha un obiettivo chiaro e specifico e questo è il primo problema questa è una delle cose che ti porta a prendere decisioni di cui ti pentirai perché per sei mesi fai una cosa poi altri sei mesi ne fai un'altra poi altri sei mesi ne fai un'altra e quindi capisci bene che sei sempre in balia delle onde è questo è questa la realtà fissa degli obiettivi sul lungo termine non hai trovato i tuoi obiettivi ok non sai come fare te lo dico subito sfidati inizia a fare più cose possibili perché l'obiettivo non lo scegli l'obiettivo lo scopri tu non scegli nessun obiettivo tu scopri il tuo obiettivo come fai a scoprirlo devi provare a fare tante cose come fai a sapere quello sport che ti piace di più provali ne provi tanti fino a che ne trovi uno che ti coinvolge emotivamente che ti dice oh questo è il mio sport bene l'obiettivo è uguale solo che devi trovarne tre in ambito di salute di vabbè di relazioni e di lavoro business da lì puoi arrivare alla sicurezza devi arrivare anche alla sicurezza economica l'indipendenza poi dopo c'è chi vuole legare il guadagno economico dal tempo ma qua si va già oltre perché ma dobbiamo arrivare a un minimo di stabilità e di equilibrio se no è come le persone che mi chiedono come faccio io a influenzare guidare un gruppo di persone quando non riescono a influenzare loro stessi cioè non riescono a raggiungere obiettivi magari più semplici tra i tre ambiti che io ti ho nominato salute business relazioni il più semplice qual è è quella della salute perché dipende solo da te quindi se già tu non sei in armonia con la tua salute cioè tu hai delle abitudini e salutari o contro la tua salute perché se già tu non gestisci quelle se tu inizi a essere schiavo delle tue emozioni per la tua salute scordati di guidare altre persone scordati una comunicazione efficace se scorda di tutto il resto ma anche degli obiettivi a lungo termine come ci arrivi fra 5 10 anni se non ti prendi cura di te che relazioni come fai ad avere relazioni forti e durature se tu sei il primo ad essere il tuo peggior nemico se capisci di cosa stiamo parlando romina tutto bene hai trovato la direzione ok signori che ore sono dunque già io devo andare perché abbiamo una persona che si sta preparando perché ai nostri corsi io sto già delegando sto insegnando le persone a diventare formatori della warriors perché non è un lavoro che devo portare avanti io ma stiamo iniziando a delegare chiaramente un lavoro che non è facile no per niente devi prima essere veramente a posto poi dopo di imparare i corsi devi essere in grado di insegnare di ispirare le persone quindi abbiamo anche questa opportunità per pochi però bisogna farlo perché vogliamo arrivare in tante città e io non non è che posso fare più di un tot di corsi anche perché non è che voglia lavorare poi così tanto quindi ad ogni modo mi raccomando smettiamo di prendere decisioni di cui potremmo pentirci iniziamo a fare un'analisi iniziamo a fare un'analisi delle nostre priorità non aspettiamo di perdere qualcosa per capire il valore che ha quell'opportunità per noi ok in qualsiasi ambito e lavoriamo su obiettivi a lungo periodo e spero di esservi stato utile e sto iniziando a fare più video più dirette per cercare di dare più valore e il consiglio di venire in aula se siete di parma reggio emilia o di bologna ma anche se siete distanti perché in mezz'ora di macchina c'è anche se abitate a piacenza nelle città limitrofe come modena il consiglio è quello di venire perché questo vi cambierà veramente tante cose sicuramente il punto di vista da cui guardate molte situazioni ok stasera è tutto da bologna è tutto continuate a seguirci e ci vediamo presto buona serata ciao a tutti